Sono arrivata, ho chiesto la linea lucida, allora, ho chiesto, lo sa che i vassoi invece ce ne hanno da, se no anche una bella zuccheriera, quale c'ha il primo? Allora, vabbè, comunque di cose ci sono anche questi qua, parti anche al quadretto, i più grandi, tipo da poter mettere comunque i vassoi, se no bella zuccheriera c'è, o in genere così, o per...